In collaborazione con Conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale Startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, mergers acquisitions La forza è l'unione Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa Noi la realizziamo Altovalore.net Bentrovati, una nuova puntata di Altovalore Presegue la nostra rubrica E naturalmente in questo particolare momento storico Condizionato inevitabilmente dall'emergenza sanitaria Lo è anche il mondo del lavoro E proprio di questo parleremo in questa puntata Comunque cercheremo di parlare di quelle che sono anche le nuove sfaccettature del lavoro Sentiamo tanto parlare di smart working Quindi diciamo che ci sarà proprio un focus sullo smart working e il telelavoro Lo faremo con Simone Carotti Bentrovato Buonasera Dunque smart working, telelavoro Ma come funziona il lavoro fuori sede? Ecco diciamo che nell'era della globalizzazione di internet Ovviamente la famosa sede di lavoro Dove le persone lavorano grandissima parte della loro giornata È venuta un po' meno Oggi molto del lavoro Anche per questione di mercato Si è spostato al di fuori della nostra azienda Il lavoro fuori sede è qualunque tipo di lavoro Sia quello a casa Oggi famosissimo come smart working Sia il lavoro a casa Anzi anche impropriamente come smart working Comunque sia il lavoro a casa Ma anche una persona che lavora da un bar O da un parco O da un'altra azienda addirittura Quindi il lavoro fuori sede significa Tutto quel lavoro che viene fatto per un'azienda Al di fuori della sede principale O anche delle sedi del secondiale Quindi praticamente in sede diversa È ovvio che il lavoro fuori sede può Diciamo essere sia temporaneo Quindi per pochi giorni Per un periodo un po' più lungo Oppure una persona che venga disegnata A lavorare definitivamente anche fuori sede Quindi il lavoro fuori sede funziona In molteplici caratteristiche che adesso vedremo Ma proprio per il fatto che Oggi come oggi è molto più diffuso Lavorare al di fuori della sede Perché a parte i normali cicli produttivi O pensiamo ai pubblici esercizi Come bar e ristoranti Dove devi esserci ovviamente Per poter servire al meglio La tua clientela Ci sono tantissimi lavori Che possono essere tranquillamente spostati Di zona Ecco, quindi entriamo un attimo proprio nel merito Qual è la differenza fra telelavoro Di stacchi e trasferte? Iniziamo con il telelavoro Che da sempre È una legge ormai che risalente agli anni 60 Il telelavoro è il lavoro da casa E quindi praticamente è il lavoro Svolto proprio dalla propria abitazione Spesso può essere sia A obiettivi Si chiamava cottimo a suo tempo Cioè a pezzo prodotto E a volte può essere un normalissimo lavoro da casa Infatti il nostro ormai celeberrimo smart working Che tanto ha avuto diffusione in quest'ultimo anno Non è esattamente il lavoro da casa Smart working significa lavoro agile E significa il lavoro fatto da ogni posto Lo dicevamo prima Da ogni luogo che non sia appunto la sede aziendale Quindi telelavoro, lavoro da casa Smart working con altre differenze sostanziali Ma intanto questa Smart working, lavoro agile Quindi lavoro al di fuori dell'azienda comunque Il distacco è quando io mando una persona in un'altra azienda È proprio un contratto In un'altra azienda per un periodo più lungo Di una normale trasferta di uno o due giorni Quindi posso parlare di due settimane Tre settimane, un mese, due mesi, tre mesi Quindi non è propriamente un trasferimento Quindi non per sempre Però per un periodo meglio lungo Questo è il contratto di distacco Perché comunque sto in una sede aziendale Per finire la trasferta invece ovviamente è la missione Cioè quando io vado in un'altra azienda In un'altra città, in un altro luogo E sto fuori un giorno, due giorni, tre giorni Cioè quello che mi serve per completare il lavoro E ritornare alla mia azienda Quella è la normalissima trasferta Ma tornerei alla grande importanza Che riveste oggi lo smart working Perché è vero che la pandemia Ci ha un po' costretto allo smart working Ma a mio avviso da tanti anni ormai Si era capito che il mercato ti portava fuori dell'azienda Cioè che il mercato voleva che la persona Professionista, artigiano Andasse fuori dell'azienda A conoscere il mercato Un mercato sempre più globalizzato Pensiamo a tutta la problematica Dell'internazionalizzazione E quindi il lavoro fuori sede è diventato importantissimo Lo smart working significa che io posso comodamente Lavorare dal mio ufficio all'estero Su questioni assolutamente in Italia O pensiamo anche a tutto lo sviluppo Di centri di elaborazione dati Quindi a parte trasferti o distacchi Con cui gestisco normalissimi lavori Al di fuori dell'azienda Lo smart working diventa fondamentale Non solo come emergenza durante la pandemia Ma come proprio modalità di ripensare la propria impresa In particolare quali possono essere Quindi i vantaggi di queste diverse particolarità di lavoro? I vantaggi alcuni sono oggettivi Soprattutto in quest'ultimo periodo Perché diciamo ci sono L'abbreviazione di tempi di spostamento Il minore inquinamento negli spostamenti Ma a mio avviso una persona che rende Ovviamente come renderebbe in azienda In un altro posto Magari in un altro luogo E anche motivata dal luogo stesso A maggiore creatività A maggiore interazione E oggi come oggi Con i mezzi tecnici a supporto che abbiamo Non avremmo del resto potuto vivere Una pandemia strettamente collegati Se fosse capitata ad esempio dieci anni fa Per cui con i mezzi che abbiamo Non ci sono più problemi di lavorare in team Possiamo farlo assolutamente collegati E possiamo farlo assolutamente connessi e interconnessi È ovvio ma io sono un fautore delle relazioni Che le relazioni in presenza sono molto importanti E completamente non se ne può fare a meno Però possiamo dire E questo è un grande vantaggio Che secondo noi Gran parte dei lavori Soprattutto nel settore dei servizi Del commercio O comunque degli artigiani Gran parte dei lavori Può essere tranquillamente svolta In un luogo che non sia l'azienda L'altro vantaggio è per esempio Non avere più quei grandissimi capannoni industriali Tutte quelle zone industriali Che sicuramente erano molto produttive Ma diciamo erano anche un po' Una specie di ghetto Una specie di zona riservata Per cui un altro vantaggio è invece proprio Che le persone si godano dei luoghi Magari anche più belli Magari più confacenti Quindi vantaggi assolutamente sì Con l'attenzione ovviamente Che è doverosa Che una persona in smart working Lavora e produca esattamente Come lo farebbe se fosse in azienda E lo faccia per obiettivi E non solo per diciamo Le ore lavorative Già assolutamente Argomenti che fanno luce Su com'è cambiato Come si è cambiato E sta cambiando il mondo del lavoro Quindi grazie mille Simone Grazie a voi Buonasera Passiamo al prossimo ospite Siamo in studio con Benedetta Dolci Ben trovata Grazie Grazie Sara Ben trovati a tutti Ben ritrovata Anzi perché abbiamo avuto il piacere Di ospitarti anche in altre puntate Sempre affrontando argomenti Di estrema attualità E oggi parleremo Di pubblicità E dell'uso del minore Anche nelle pubblicità In particolare Benedetta Da quali circostanze Prende piede questo intervento? Sì Si tratta di una sentenza Abbastanza recente Di luglio del 2020 Che cosa è successo? È successo che un genitore Il padre Cita in giudizio La ex moglie E un brand pubblicitario Perché si era accorto Che l'immagine di suo figlio Veniva utilizzata In un catalogo di moda Sosteneva di non aver dato Il proprio consenso All'utilizzo di questa immagine Quindi in un colpo solo Richiede l'annullamento del contratto Il risarcimento dei danni E la rimozione Delle immagini del figlio La moglie In tutta risposta Riteneva che il consenso Fosse stato dato E che comunque Era un atto di ordinare amministrazione Per cui Poca cosa Il brand invece Dichiarava che la moglie Si era dichiarata A sua volta Affidatare esclusiva Per cui Non si era premurato Di richiedere anche Il consenso del padre Questa diciamo Sostanzialmente È la vicenda Da cui prende le mosse Questa situazione Un argomento poi Particolarmente attuale Anche per l'utilizzo Dei social Quindi le immagini Sui social Si vedono tantissime volte Senza fare riferimento A social in particolare Però immagini Anche di bambini Anche appena nati Insomma comunque Minori Ma com'è disciplinato L'uso delle immagini Sia nelle pubblicità Che nei social poi Allora In realtà Sarà la legge Sul diritto d'autore Che si occupa Di questa questione Quindi Dobbiamo Far riferimento Agli articoli 96 e 97 Della legge Sul diritto d'autore Diciamo che Questi articoli Introducono sostanzialmente Un principio generale Secondo il quale È possibile Pubblicare Immagini E foto Di persone Ma è necessario Ottenere Il loro consenso L'articolo 97 Ovviamente Deroga A questo principio Nel caso in cui Si tratti Di persone famose Quindi persone che abbiano Una certa visibilità Allora in questo caso Il diritto alla riservatezza In qualche modo Cede rispetto Al diritto di cronaca Per cui Nel caso in cui Si è necessario Appunto Comunicare Dei fatti di cronaca Allora non è necessario L'acquisizione Del consenso Mentre per i minori Com'è disciplinata La questione? Per i minori Come dire Si valuta La delicatezza del caso Quindi La necessità Di non turbare Anche l'equilibrio Del minore E il diritto di cronaca Invece Cede il passo Al diritto Alla riservatezza E quindi Nel caso dei minori Senz'altro È necessario Il consenso Ovviamente In tutti i casi Sia che si tratti Di minori Sia che si tratti Di adulti La pubblicazione De immagini Non può essere Lesiva Del diritto All'onore E al decoro Quindi ovviamente Non è possibile La pubblicazione Di immagini Come dire Poco consone E quindi Nel caso del minore Certamente Vale il consenso Questo non significa Che vi sia Un divieto Assoluto Di pubblicare Immagini di minori Quindi nel caso In cui Si tratti Comunque Di immagini Gioviali Felici Giocose Esiste la possibilità Di pubblicare Immagini del minore Con il consenso Quindi naturalmente La pubblicità E l'uso pubblicitario Prende piede Da questo principio Quindi non è Esclusa la possibilità Di utilizzare Immagini di minori Nella pubblicità Alla luce Di quanto sopra Cosa accade Poi per i minori Per i minori Come dire Si valuta La delicatezza del caso Quindi la necessità Di non turbare Anche l'equilibrio Del minore E il diritto Di cronaca Invece Cede il passo Al diritto Alla riservatezza E quindi Nel caso dei minori Senz'altro È necessario Il consenso Ovviamente In tutti i casi Sia che si tratti Di minori Che si tratti Di adulti La pubblicazione De immagini Non può essere Lesiva Del diritto All'onore E al decoro Quindi ovviamente Non è possibile La pubblicazione Di immagini Come dire Poco consone E quindi Nel caso del minore Certamente vale Il consenso Questo non significa Che vi sia Un divieto assoluto Di pubblicare Immagini di minori Quindi nel caso In cui Si tratti Comunque Di immagini Gioviali Felici Giocose Esiste La possibilità Di pubblicare Immagini del minore Con il consenso Quindi naturalmente La pubblicità E l'uso pubblicitario Prende piede Da questo principio Quindi non è Esclusa La possibilità Di utilizzare Immagini di minori Nella pubblicità Quindi in conclusione Quali indicazioni Possiamo dare Ai nostri ascoltatori Il nostro pubblico A casa Che ci segue E che certamente Se quest'uso È consentito Ma è necessario Acquisire il consenso Di entrambi i genitori Perché si tratta Comunque di un atto Di straordinaria amministrazione A ben vedere Non è necessario Un consenso scritto Nel caso di specie Certo sarebbe stato opportuno Che il brand Si fosse premurato Di acquisirlo Scritto Ma per ovvie ragioni Appunto come in questo caso Di difesa Quindi Proprio in estrema Conclusione Anzi Dici come è andata a finire Questa questione Allora alla fine Il tribunale Ha disposto La nullità del contratto Quindi il contratto Doveva essere considerato Nullo Aborigine Ha disposto Che non potesse essere Più utilizzata L'immagine del minore Per cui L'inibitoria All'uso del catalogo Però non ha ritenuto Che vi fosse Una lesione Dei diritti patrimoniali Per cui Non si è pronunciato Sul risarcimento Del danno Perché fondamentalmente Il padre Non aveva Subito Un vero Un vero danno Sostanzialmente Queste sono state Le conclusioni Del tribunale Bene Grazie mille Benedetta Dolci Per questo Tuo nuovo intervento Grazie a voi Come sempre Per l'invito Passiamo dunque Al prossimo ospite Massimo Malabardi Ben trovato Ben trovato a te Sara Torniamo a parlare di lavoro Proprio come a inizio Puntata In particolare In questo caso Parlando di Vendita sul campo O vendita Interna Qual è la differenza Di che cosa si tratta È una differenza Molto semplice Sostanzialmente In questo momento Le aziende Si stanno chiedendo Continueremo A mandare I nostri agenti Come abbiamo sempre fatto A usare le solite Strategie commerciali Oppure dotiamo I nostri agenti Di una buona connessione Di un buon computer E li facciamo vendere Da casa O Da interno All'azienda È una cosa Che bisogna A cui pensano Fondamentalmente E credo che La differenza ci sia In questo momento Perché un'azienda Dovrebbe fare Questa scelta? Beh direi che È una scelta Molto soggettiva Secondo delle aziende Ed è una scelta Ed è una scelta In alcuni casi Anche obbligata In un periodo come questo Ci sono effettivamente Problematiche oggettive Per dover andare Dal cliente A trovarlo E cos'è successo? È successo che Alcune aziende Hanno Per caso Iniziato a parlare Con i propri clienti Da remoto E quindi con un venditore O con un addetto interno All'azienda E hanno visto Che in questa maniera Riuscivano a gestire bene Il cliente E a proporre Nuovi prodotti O nuove soluzioni Per loro E quindi direi Che è stata una scelta Forzata Ma allo stesso tempo Anche interessante Perché ha fatto capire Determinati meccanismi Alle aziende Ma ci sono solo vantaggi Oppure anche svantaggi? Diciamo che Sui vantaggi e svantaggi L'argomento È abbastanza complesso Cercherò di renderlo Abbastanza semplice Per quanto riguarda La vendita Sul campo Praticamente Risulta essere Una vendita Che Dove il tempo Fa da padrone Perché gli spostamenti Ad esempio Da un cliente all'altro Dove fa da padrone Anche tutti i fattori esterni Che mentre parli Con il cliente Magari arriva Un altro Che lo interrompe E soprattutto Ci sono dei costi Che diventano Anche abbastanza importanti Per quanto riguarda La gente Quindi Invece Per quanto riguarda La vendita interna Praticamente È una vendita Fondamentalmente Dove possiamo Innanzitutto Contattare più clienti Perché decidiamo noi Non c'è Non c'è limiti di tempo Perché da un cliente all'altro Basta cambiare E fare una telefonata Differente E soprattutto Diciamo Hai Chiara La situazione Del cliente Perché hai davanti Un monitor Che ti dà L'esatta Situazione Sia del cliente Che dell'azienda E quindi sai Quello che devi dire Al cliente In maniera Esatta L'unico Diciamo Svantaggio Che potrebbe esserci È quello Dell'aspetto Empatico Che è quello Dell'aspetto Del rappresentante Che va lì E quindi Vede tutto quello Che non è La dialettica Pura e semplice Ma anche I movimenti Del corpo Del viso E quindi Cerca di capire In quei momenti L'emozione Che prova il cliente Per cercare di chiudere La trattativa Facilmente Direi che Questo è l'aspetto Per chi fa La vendita sul campo Più importante Perché spesso È determinante Per quanto riguarda Il discorso Delle vendite Quindi Da parte tua Qual è il consiglio Che ti senti di dare Vendita interna O vendita sul campo Dunque Io sono abbastanza Nostalgico Essendo anche Non più Giovane Preferisco La vendita Preferisco Andare dal cliente Con tutti i pro E tutti i contro Che ci sono Detto questo Però Credo Che Fondamentalmente Il reparto commerciale Deve anche guardare Ad aspetti E a tecniche nuove E deve Secondo me Integrare Questo aspetto Cioè Integrare La vendita Interna Alla vendita Esterna E fare in modo Che il venditore Sia in grado Sia di collocare Con il cliente Tramite un device E stando in azienda E avendoci sotto mano Tutte le caratteristiche Cioè tutte le carte Da giocare In azienda Ma nello stesso momento Deve far sì Che il venditore Possa Qualche volta Anche andare dal cliente Proprio per controllare E capire bene Quelle che sono Le situazioni Del mercato A casa del cliente Io direi che Le due cose Devono essere integrate Bene Grazie mille Massimo Adabardi Per il tuo intervento Sia dal punto di vista Tecnico Sia per averci dato Anche quello che è Un po' Il tuo parere in merito Grazie a te Sara Grazie ad avermi invitato E arrivederci a tutti Assolutamente Speriamo di averti Quanto prima Ospite nei nostri studi Prima di salutare Il pubblico a casa Ricordo che Tutte le puntate Di Alto Valore Sono visibili anche online Sul sito www.altovalore.net Questa puntata Andrà in replica Anche venerdì Alle ore 13 E domenica Alle ore 23 e 30 L'appuntamento è Alla prossima settimana Sempre alle ore 20 Sul canale 11 Di TVRS Buona serata In collaborazione con Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti